Sia lodato Gesù Cristo, vi saluto cordialmente e vi invito ad ascoltare questa videocatehesi preparata per gli Apostoli della Divina Misericordia in Italia. Durante questo anno di formazione vogliamo approfondire e riscoprire la Misericordia di Dio nella Bibbia e nel Diario di Sor Faustina. Oggi vi invito a riflettere sul tema il misericordioso creatore del mondo. L'argomento è molto ampio, così come lo è il mondo in cui viviamo, il mondo creato da Dio. Questa conferenza è solo un sunto, una giunta a ciò che troverete nel nostro manuale di formazione di questo anno. La Misericordia è l'amore di Dio che si china sulla povertà, sulla carenza e sulla miseria. Riguardo alle nostre debolezze, peccati, è facile per noi vedere la Misericordia di Dio che si china su di noi. Ma quando pensiamo alla creazione del mondo non è così evidente a prima vista dove è presente questa Misericordia. Tuttavia se la Misericordia di Dio è il suo chinarsi sulla povertà, sulla miseria, allora nell'opera della creazione Dio si china sulla più grande miseria, si china sul nulla e chiama all'esistenza tutta la creazione. Dio misericordioso si china sul non essere, sulla non esistenza ed è in questo che Santa Faustina vide la manifestazione della sua insondabile misericordia. Pregò con le parole, misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza, confido in te. Ha scritto che Dio è amore e la misericordia è la sua azione, quindi seguendo il suo pensiero possiamo dire che tutta l'opera della creazione nella quale vediamo l'azione di Dio scaturisce dalla misericordia e la misericordia di Dio per noi. Possiamo dire allora che il mondo è stato creato dalla misericordia di Dio. Se prendiamo la Bibbia, il libro della Genesi, tutti noi conosciamo queste descrizioni, sono i sei giorni consecutivi in cui Dio crea fino all'ultimo, il settimo giorno in cui invece riposa. Vi incoraggio a prendervi del tempo per tornare su questo brano, rileggete, meditate questa parola della scrittura. È importante notare che è stato attraverso la sua parola che Dio ha creato i futuri elementi dell'universo. Il libro della Genesi ci mostra la potenza della parola di Dio, il potere creativo. Dio parla e diventa ciò che dice e non è che la parola di Dio ha operato solo quando creava il mondo, no, la parola di Dio ha ancora lo stesso potere nelle nostre vite per i credenti. Fate attenzione, quando Gesù guariva spesso chiedeva di aver fede. Credi davvero che io posso farlo? Sì, ci credo. E Gesù, pronunciando la parola sei guarito, concedeva la guarigione. La parola che incontriamo ogni giorno nella preghiera è la stessa parola di Dio che ha il potere di guarirci, di trasformarci e crearci di nuovo. Tornando alla descrizione della creazione del mondo dal libro della Genesi, leggetevi questo capitolo nel manuale perché è abbastanza esaustivo, di Padre Marcin tratta questo argomento. Pregando con questa parola puoi fingerti un osservatore e immaginarti come è stato creato il mondo. Mi piace molto l'intuizione di Lewis, l'autore delle cronache di Narnia, che in una delle parti seguenti dal titolo Il nipote del mago descrive l'inizio di Narnia. È una metafora della creazione del mondo, una bella descrizione degli osservatori in piedi al lato che sono venuti lì da un altro mondo, dal futuro. Quando non c'è niente intorno, solo terra e all'improvviso, inaspettatamente, iniziano ad apparire le prime piante, i primi animali. Chi lo guarda è sorpreso, è felice, sente in sottofondo una bellissima musica, un canto che fa apparire nuove creature. E infine vedono colui che ricrea, il grande leone che si avvicina, Aslan. Aslan, il figlio dell'imperatore dell'Oltremare, un simbolo di Gesù. Aslan canta mentre va ed è la sua parola cantata che dà vita ad altri elementi del mondo creato. Mi piace molto questa descrizione, forse perché amo la musica, ma desidero incoraggiarvi a prendervi del tempo per pregare con questa descrizione della creazione nel mondo. Se vogliamo conoscere la misericordia di Dio nascosta nella opera della creazione, possiamo chiederci perché Dio ha creato il mondo? Ne sentiva il bisogno? Così dice Gesù a sur Faustina. Sono il Signore nella mia essenza e non conosco né imposizioni né bisogni. Se chiamo delle creature alla vita, questo è per l'abisso della mia misericordia. La creazione del mondo è stata il desiderio di Dio, la sua volontà, la sua decisione, che è nata nel profondo della sua misericordia. Faustina ha scritto, Dio non ha bisogno di nulla per essere felice e pertanto ogni cosa è unicamente opera della sua misericordia. Ha creato il mondo per condividere il suo amore con noi. Dio ha creato il mondo e tutto ciò che esiste è stato fatto in modo che potessimo essere felici, che potessimo godercelo, che potessimo riposarci al mare, camminare in montagna, ammirare i bei panorami, in modo che possiamo vivere grandi emozioni mentre facciamo kayak su un fiume selvaggio o momenti indimenticabili e romantici al tramonto, ascoltando il canto degli uccelli, eccetera, eccetera. E potremmo menzionare molte altre cose. Dio ha creato il mondo in modo che potessimo godercelo tutto e Faustina l'ha compreso molto bene. Ha scritto che tutto ciò che è uscito dalle mani del creatore era chiuso in un mistero inconcepibile, cioè nel viscere della sua misericordia. Penso che sarebbe un bene se ciascuno di noi ponesse personalmente a Dio questa domanda in preghiera. Perché hai creato il mondo? Affinché possiamo sentire la sua risposta indirizzata personalmente a ognuno di noi. Perché forse non è affatto scontato per noi sentire la sua risposta? Per te, tesoro. Ho fatto il mondo per te. Potresti domandarti ma come? Per me? Ci sono tante persone al mondo. Il mondo è stato fatto per tutti noi. Ma per me? Sì. Dio ha creato il mondo per te perché ti ama tanto. Questo è estremamente toccante. Credere in un tale amore di Dio per me, un amore così personale, libero, incondizionato. Perché Dio ha creato il mondo quando io non c'ero ancora e ci ha messo tanto impegno, coinvolgimento, fatica. Dio che crea il mondo è un artista straordinario. Basta guardare i fiori, le foglie, i fiocchi di neve. Non ce ne sono due uguali. E ognuno di noi può essere felice rendendosi conto che è tutto per me. Perché Dio mi ama così. Potete meditare anche su questo, sul vostro tempo libero. Nei salmi troviamo anche molte parole che lodano Dio, la sua bontà nella creazione del mondo. Il salmo 104 dice «Quante sono le tue opere, Signore? Con sapienza hai fatto tutto. La terra è piena delle tue creature». Sir Faustina scriveva «Ovunque io guardi, tutto mi parla della sua misericordia». Questo è incredibile avere un approccio come lei, una tale capacità di vedere la misericordia di Dio in ogni cosa. Guardate quanti motivi di gioia abbiamo per ringraziare Dio, quante speranza ci dà questa cosa. Anche se ci sono molti eventi e questioni che ci travolgono. Faustina ha potuto vedere la misericordia di Dio ovunque, in ogni cosa. Lo Spirito Santo ha fatto questo in lei. Possedeva il carisma di una speciale sensabilità alla misericordia di Dio. E noi, apostoli della Divina Misericordia, viviamo con il suo carisma. Così lo Spirito Santo ci permette di guardare il mondo che ci circonda con gli occhi diversi e vediamo in esso l'amore di Dio per noi, la sua infinita misericordia. Il Salmo 136 lo mostra molto bene. Egli solo ha compiuto meraviglie, perché eterna è la sua misericordia. Ha creato i cieli con sapienza, perché eterna è la sua misericordia. Ha stabilito la terra sull'acqua, perché eterna è la sua misericordia. Ha fatto i grandi luminari, perché eterna è la sua misericordia. Il sole per regolare il giorno, perché eterna è la sua misericordia. La luna è le stelle per regolare la notte, perché eterna è la sua misericordia. La parola di Dio ci insegna che guardare la bellezza della creazione e vedere in essa la bellezza del misericordioso creatore del mondo ci porta alla preghiera di lode e di stupore per le sue meraviglie. È importante imparare a percepire la misericordia di Dio nelle cose che a volte ci sembrano molto ovvie. È importante che insegniamo al nostro cuore questa sensabilità alla misericordia di Dio per vederla in tutto ciò che ci circonda. Perché non so se sarete d'accordo con me, ma mi sembra che sia più facile per noi vedere ciò che è difficile. Non abbiamo bisogno di comprenderlo, ci viene senza alcun sforzo, no? Vediamo più facilmente ciò che ci sconvolge, ciò che ci fa paura. Soprattutto oggi, quando c'è tanta confusione, incertezza, sofferenza, tutto questo è presente nella nostra vita ed è difficile, ma soprattutto dobbiamo vedere che c'è la misericordia di Dio. Il nostro creatore, Dio che governa il mondo, è presente. Anche se questo mondo si oppone sempre più apertamente a Dio, lui c'è, ci ama e non smetterà mai di amarci. Abbiamo bisogno di risvegliare in noi questo sguardo di fede e fiducia nella sua misericordia. Quando impareremo a vedere la misericordia di Dio, in ogni cosa si svilupperà il nostro rapporto con Dio, il nostro legame con Lui, e infatti è la cosa più importante nella nostra vita. Questo è tutto per oggi. Vi incoraggia ancora una volta a trovare il tempo per pregare con la parola di Dio, in particolare la descrizione della creazione del mondo nel libro della Genesi. E naturalmente, leggete attentamente il capitolo del nostro libro sul misericordioso creatore del mondo. Lì troverete anche molti riferimenti nei fragmenti della Bibbia e del diario. Prendetevi del tempo per leggere questi passi e pregate con loro. Alla fine di ogni capitolo troverete anche delle domande per la riflessione e un spazio per scrivere le vostre risposte e riflessioni. E anche un'introduzione alla meditazione come aiuto alla vostra preghiera personale con la parola di Dio. Vi saluto cordialmente con gioia, vi salutano anche le mie sorelle e vi ricordiamo nella nostra preghiera. Gesù misericordioso vi benedica.